Il Nord e il Sud abbiamo vocazioni diverse, abbiamo interessi diversi, ma senza il Nord il Sud sarà sempre più isolato e senza il Sud il Nord non andrà da nessuna parte. E' il sistema Italia che deve andare avanti e mentre noi ci dividiamo fra Nord e Sud i padrini dell'Europa si dividono il continente.